Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il suo candidato alla Corte Suprema del Paese per sostituire il giudice uscente Anthony Kennedy. La scelta ricade sul giudice conservatore Brett Kavanaugh con cui Trump intenderebbe consolidare il controllo della Corte per gli anni a venire. La mia filosofia giudiziaria è molto semplice. Un giudice deve sapere essere indipendente, interpretare la legge, un giudice deve sapere interpretare gli statuti così come sono scritti ed anche la Costituzione. Non si è fatta attendere intanto la reazione dei democratici e con Kavanaugh sono a rischio l'Obamacare e la legge sull'aborto, dice il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer. Un gruppo di attivisti democratici, Demand Justice, ha raccolto 5 milioni di dollari al solo scopo di attaccare il nuovo giudice che metterebbe a rischio diritti come lo stipendio minimo garantito e il matrimonio gay.